Applicando la direttiva emessa dal commissario Maria Grazia Brandara, il comune ha avviato la georeferenziazione dei beni confiscati alla criminalità e presenti sul territorio comunale. La direttiva e il successivo avvio della mappatura degli immobili acquisiti al patrimonio comunale prendono le mosse da un'iniziativa dell'associazione a testa alta che nei mesi scorsi con forza aveva chiesto che fosse fatta chiarezza sul patrimonio di ex proprietà della criminalità organizzata e oggi nella disponibilità dell'ente. La georeferenziazione è stata avviata utilizzando immagini satellitari sul cui campo sono stati segnati i beni oggi di proprietà comunale. I primi beni ad essere localizzati sono stati un edificio sito in corso Brasile e un terreno incontrato a Passarello. La banca dati accessibile a tutti, si legge in una nota di a testa alta, segna l'avvio di un'attività di studio e analisi territoriale propedeutica al riutilizzo sociale dei beni e rappresenta un'importantissima occasione di buon governo che può entrare a far parte sia dei programmi di pianificazione territoriale sia di quelli finanziari evitando gli errori del passato. Una mappa che una volta completata e aggiornata con le recenti acquisizioni al patrimonio comunale consentirà alla cittadinanza di comprendere la profondità dell'infiltrazione mafiosa nella nostra città e al contempo la resistenza messa in campo da associazioni come la nostra nella promozione della legalità. Prima del nostro esposto il comune di Licata non aveva neppure reso pubblico un elenco di tali beni in violazione del codice antimafia. Queste sono conquiste di civiltà di tutti, conquiste di cui andare veramente fieri. C'è anche il commento del commissario straordinario Brandara. Sono proprio contenta per aver dato un contributo concreto per ottenere questo risultato. La direttiva agli uffici per la geolocalizzazione dei beni confiscati.